Da poco, più che tracce stanno segnando le impronte profonde nella vita culturale delle nostre città, quindi sono in grado a questo gruppo di intellettuali, veramente persone che amano, però anche le materie. Ringrazio il professore Russo stasera che inagrava questo percorso che facciamo e vi auguro che durante una strada possiamo raccogliere ancora più attenzioni e partecipazioni di quali che già siete fiatati, particolarmente attenti e desiderosi per gli ascoltanti. Quindi ringrazio di cuore, ci sono anche questi segnali, però non c'è tutto il calendario di appuntamenti. Buon cammino a tutti, grazie.